Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore aggiunto Imma Acconcia, hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne battipagliese incensurato e deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà un altro giovane, anche egli residente a Battipaglia. L'arrestato, mentre si aggirava in compagnia di un 18enne a bordo di un'utilitaria in una zona della città abitualmente frequentata da spacciatori ed assuntori, ha attirato l'attenzione dei poliziotti per il suo comportamento sospetto. Prontamente bloccati ed identificati, i due individui sono stati sottoposti a perquisizione. Tale attività ha permesso di rinvenire su entrambi pezzi di hashish, confezionati in bustine di cellophane trasparenti, nonché sotto il sedile posteriore dell'autoveicolo un coltello a serramanico in acciaio con lama intrisa della stessa sostanza stupefacente. Grazie a tutti.